Preneto Preneto è il sistema di tubazioni in polietilene reticolato WURT ampiamente testato e di comprovata sicurezza per la realizzazione di impianti idrico-sanitari e di riscaldamento negli edifici. Il brevettato sistema di giunzione con boccola di scorrimento consente un'installazione dei tubi semplice e veloce, senza bisogno di filettare, brasare o saldare e senza utilizzo di inaffidabili guarnizioni o ring di tenuta, garantendo così la massima sicurezza e una lunga vita alla vostra installazione. Grazie alla pratica e specifica attrezzatura manuale, elettrica o a batteria, la realizzazione di una giunzione Preneto risulta estremamente semplice. Per i tubi Preneto Stabil, Flex e riscaldamento dello stesso diametro, la testina di espansione non cambia. A seconda del tipo di tubo e della relativa boccola, vanno inserite le opportune forcelle di serraggio nell'attrezzatura. Un intuitivo sistema di colorazione semplifica il corretto abbinamento di boccola e forcelle. Per realizzare una giunzione Preneto sono sufficienti tre semplici passi. Dopo il taglio del tubo e l'inserimento della boccola, il tubo viene espanso mediante l'apposita attrezzatura di espansione e dunque subito applicato al raccordo. Dopo il taglio non è necessaria alcuna calibratura o sbavatura dell'estremità del tubo. È consigliato far passare il minor tempo possibile tra l'espansione e l'applicazione del tubo al raccordo, in quanto dopo l'espansione il tubo incomincia immediatamente a restringersi. Successivamente accostare l'attrezzatura di serraggio al collare del raccordo e alla boccola, dunque serrare la boccola. Il materiale del tubo stesso, grazie alla superficie di tenuta particolarmente estesa, provvede a garantire un'elevata sicurezza e durata della giunzione, senza utilizzo di inaffidabili guarnizioni o ring di tenuta. Massima sicurezza confermata regolarmente dai maggiori istituti di prova, come ad esempio il Defau-GV, e confermata giornalmente da milioni di giunzioni a tenuta, già in esercizio. Prineto. Facile. Veloce. Sicuro.